Abbiamo lanciato un messaggio chiaro e forte sulla necessità di attuare il piano Silletti contro la Xilella. Ora dobbiamo fare squadra, essere uniti e operativi. Questo l'appello lanciato su Facebook dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina. Serve la mobilitazione di tutti per combattere la diffusione del batterio e mettere in pratica con forza nei prossimi 15 giorni le azioni previste dal piano. Abbiamo bisogno continua di uno scatto e dell'impegno di ognuno per salvaguardare il patrimonio olivicolo salentino e pugliese. Trovo positiva anche la reazione dei sindaci e delle amministrazioni locali che stanno dando il buon esempio. Inoltre il ministro fa sapere di aver scritto ai presidenti nazionali di tutte le confederazioni agricole e delle principali associazioni ambientaliste per chiedere anche a loro una mobilitazione operativa straordinaria in Puglia nei prossimi giorni e di aiutare a mettere in pratica le lavorazioni dei terreni fondamentali per impedire agli stadi giovanili dell'insetto vettore della xylella di crescere. Ora dobbiamo fare squadra, dice Martina, essere uniti ed operativi. Il Buone Pratiche Day è un'ottima iniziativa e rappresenta lo spirito giusto con cui affrontare l'emergenza. Intanto nelle prossime ore sono previste le prime eradicazioni degli olivi malati. Le ruspe entreranno in azione a Doria ed il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, ha convocato per mercoledì 15 aprile a Bruxelles, gli europarlamentari pugliesi. Si discuterà dell'attuale situazione in Puglia e si cercherà di chiarire anche la questione dell'embargo dei prodotti pugliesi e delle pesanti ripercussioni per gli agricoltori e i vivaisti.